Stiamo lavorando di concerto e faremo una riunione a strettissimo giro con i commercianti a Mestre per fare in modo che anche la città di Mestre sia coinvolta nella Notte dell'Arte, nella Art Night che Ca' Foscano organizza insieme a noi a giugno. Quindi saranno aperte le istituzioni culturali in quel di Mestre e poi faremo anche in modo che si crei tutto un clima di fest interagendo con i commercianti che dovranno, vorranno, se vorranno, potranno ragionare su delle vetrofanie e delle iniziative legate a questa Notte dell'Arte che sbarca anche in terraferma. Visto il successo ottenuto a Venezia, il Comune ha deciso di estendere l'Art Night anche alla terraferma. Una notte magica in cui poter assaporare ciò che la città offre dal punto di vista artistico e culturale, questa volta con un occhio aperto verso Mestre, a dimostrazione che l'attenzione non è rivolta solamente al centro storico. Appena ci sono delle occasioni per poter creare dei legami fra Venezia e la terraferma o esportare dei format veneziani in terraferma, noi siamo qui pronti oppure a fare delle iniziative specifiche della terraferma, come possono essere gli Epi Friday, che la settimana scorsa, venerdì scorso, ci hanno lasciato veramente soddisfatti per il coinvolgimento e certamente la buona stagione aiuta, però noi non manchiamo di essere propulsivi e propositivi nei confronti della terraferma.